La funzione somma.somma.q mi restituisce la somma di due quadrati. Qui ho due distribuzioni, la x nella colonna b e la y nella colonna c. Poi ho fatto i quadrati di queste due distribuzioni andandoli a sommare. Alla fine la somma totale di quest'ultima colonna è 38.885. Questo sarà il valore che mi aspetto da questa funzione, che vado ad inserire somma.somma.q e seleziono le due matrici b2b11 e c2c11 per y. Ecco il risultato 38.885.